Ragazzi con sviluppo neurotipico e ragazzi neurodiversi, tutti insieme, appassionatamente. Un'estate all'insegna dell'inclusione sociale, quella pensata dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, grazie al progetto del Summer Camp 2019. Un campus estivo, della durata di poco più di un mese, tra diverse strutture di Barletta, Margherita di Savoia e Trinitapoli, aperto anche a bambini e giovani neurodiversi, affetti ad esempio da autismo, sindrome di asperger, iperattività o disturbi dell'attenzione, che hanno potuto così svolgere attività sportive e non perfettamente integrati a tanti altri ragazzi. Un primo bilancio dell'iniziativa è stato tracciato nel corso di un incontro ospitato presso la sede del Museo Diocesano di Andria per avere un quadro dei risultati ottenuti con questo progetto che rappresenta un modello da istituzionalizzare. Abbiamo cercato di replicare quello che succede esattamente nel contesto mondo. Abbiamo preso i nostri ragazzi, soprattutto gli adolescenti e i giovani fino a 26 anni e loro si sono cimentati in tutte le attività tipiche della loro età, naturalmente assistiti da dei tutor specializzati e affiancati da dei tutor pari. Che cosa hanno fatto? Sono andati in spiaggio, in molte spiagge e in molte location di Barletta. Hanno fatto canottaggio, hanno fatto kate surf, hanno fatto judo, hanno fatto yoga, hanno fatto tutte le attività di socializzazione, di sport eccetera eccetera. Sono andati in una masseria didattica e si sono sperimentati, sono partiti dalla raccolta addirittura dei prodotti, li hanno trasformati, hanno preparato il pranzo. Una serie di percorsi inclusivi. Il progetto Summer Camp è stato sostenuto anche dalla Diocesi di Andria che ha collaborato alla nascita della fondazione. Al di là dei discorsi che si fanno, dei proclami, delle prediche, dei documenti che si scrivono poi in concreto ciò che incide e le decisioni, le scelte che si prendono. Una scelta è stata questa, cioè non soltanto di benedire questa associazione, questa fondazione, ma anche di di starci dentro, perché standoci dentro possiamo come Diocesi, come Chiesa, dire una parola sempre consapevole delle problematiche e mettiamo Vangelo nella realtà. Questo è il nostro scopo, questo è il motivo per cui la Diocesi ha voluto essere dentro questa realtà. Grazie. Grazie.